Siamo Ileana, sono guatemalteca, ho 55 anni, sono psicologo e molto felice della mia professione. Estudio l'italiano perché voglio conoscere l'Italia e voglio parlare con tutti. Per me cucinare è vivere, è vivere e cucinare. La mia famiglia piace la pasta di cucina. Oggi faccio la pasta, olio e scarpiello. Questa risetta l'hanno inventata in una regione della Campania. La Campania è una delle 21 regioni dell'Italia. La sua capitale è Napoli. La mia famiglia è la mia famiglia. 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 La mia famiglia è la mia famiglia è la mia famiglia. La città è la mia famiglia. Agua calda. Fiamma al máximo Questa receta, alo escarpariello Olio Olio Sof, sof, suficiente, abundante olio Olio Alora y basílico Meto la pasta al agua calda Un po' moreno Questa receta é molto deliciosa Aggiungo un po' di acqua della pasta Alla salsa Mamma mia C'é delizioso Allora, al bumbieri, le parmigiano Poi, olio Ora, mangiare la pasta Questa pasta da felicidad Allora, mangiare Sof, grazie